La mia intenzione per quest'estate, queste settimane in cui Jonathan sta nei Stati Uniti e di volendo avrò l'opportunità di predicare, il mio intento è quello di studiare insieme il libro di proverbi, ma prima di arrivarci oggi passiamo nuovamente per la lettera scritta ai Colossesi. Qualche anno fa ho iniziato a predicare questa lettera, recentemente nel giorno del battesimo abbiamo guardato alcune parole chiave per capire bene il battesimo, alcune parole chiave all'interno di questa lettera scritta ai Colossesi. In quell'occasione, era il 2 giugno se non mi ricordo male, siamo andati molto vicini ad un brano che comunque non abbiamo visto, che vorrei vedere insieme a voi questa mattina, quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie alla lettera ai Colossesi, capitolo 3. Colossesi 3, Dio volendo studieremo il brano che va dal versetto 12 al versetto 17. Ho intitolato questo sermone, tre evidenze della nostra nuova vita. E se tu volessi renderlo ancora più personale, potresti chiamarlo tre evidenze della mia nuova vita. Domenica scorsa avevo detto che la parola di Dio è in grado di darci la diagnosi, la diagnosi non della nostra salute fisica ma della nostra salute spirituale, e come vedremo questa mattina, questo brano che studieremo, questo brano fornisce una vera e propria lista di controllo sulla nostra salute spirituale. Quindi questo brano sarà per noi questa mattina, diciamo, il nostro referto, il mio referto, il tuo referto, di nuovo, non sulla nostra salute fisica ma sulla nostra salute spirituale. E credo che una delle cose più spiacevoli, una delle cose più brutte nella vita, a parer mio, sia l'illusione, essere illusi. E con questa parola non sto parlando magari di un animatore che all'interno del suo spettacolo riesce a sorprenderti con i suoi trucchi, non sto parlando di questo tipo di illusione. Quando dico illusi o uso la parola illusione, sto pensando e quindi sto parlando di casi in cui una persona pensa di vivere in modo che piaccia a Dio, ma in effetti non lo sta facendo. Quindi è questo che intendo per illusi. Cioè una persona che ha l'idea di essere a posto con Dio, di vivere in modo che piaccia a Dio, quando in realtà non sta succedendo, non sta vivendo così. E per quanto possa essere difficile aprire e leggere il nostro referto, è sempre meglio sapere la verità. Sempre meglio sapere la verità. Venerdì ho avuto una situazione del genere. Io stavo, fino a venerdì mattina, verso le ore dieci e mezza, stavo vivendo con l'illusione di avere una macchina funzionante e affidabile. Infatti il lunedì avevo portato questa macchina dal meccanico per il cambio delle gomme e in quel momento hanno visto che le pasticche andavano cambiate, quindi ho speso anche per nuove pasticche che non sono gratuite, ho scoperto lunedì, sapevo che non erano gratuite, non mi ricordavo che costassero così tanto. Quindi lunedì nuove gomme, cioè le gomme non invernali, le nuove pasticche. Giovedì mattina alle 5 e un quarto parto per andare a prendere Jonathan e Melody e la loro famiglia a casa e partiamo per Roma. Quindi giovedì avrò fatto 450 chilometri, super giù, ok? Torno a casa, poi faccio i giri portando i figli a sport, attività, eccetera. Venerdì mattina sto venendo qua e la macchina proprio in mezzo alla rotatoria si ferma e non si riaccende più. Probabilmente un guasto serio al motore, adesso devo vedere. Se qualcuno sta cercando un'occasione su un furgone nove posti, possiamo parlare dopo. Comunque riconosco ora che fino alle 12 e mezza, venerdì mattina, io stavo vivendo una sorta di illusione per quanto riguarda la mia macchina. Infatti ero così illuso che giovedì mattina siamo partiti per andare a Roma e sono molto grato al Signore che quello che è successo venerdì mattina a Strozza Capponi non sia successo giovedì mattina in molti altri punti, specialmente prima del volo di Jonathan e Melody. mi sarei sentito molto male. Anche se fino a venerdì mattina stavo vivendo questa illusione, ora so la verità. C'è un problema serio con la mia macchina. Non è funzionante, non è affidabile. Nei prossimi giorni forse scopriremo quanto ci verrà a costare. E come dicevo, per quanto possa essere difficile aprire e leggere un referto o scoprire un problema alla propria macchina, è sempre meglio sapere la verità. È sempre meglio sapere come in realtà stanno le cose. Per quanto non mi piace questa parola e quanto non mi piace il fatto che in un modo o l'altro dovrò spendere probabilmente un bel po' di soldi, è sempre meglio questo che vivere illusi. Vivere illusi che le cose stiano diversamente di quello che noi pensiamo. Stesso discorso per la nostra salute fisica. A nessuno, probabilmente, a nessuno piace ricevere una diagnosi brutta, no? Ma è sempre meglio sapere come stanno le cose. Così prendiamo le decisioni di conseguenza alla luce del fatto di come noi stiamo di salute. Stesso discorso per la nostra salute spirituale. Stesso discorso. Quindi, stamattina, chiediamo aiuto a Dio mentre apriamo questo nostro referto. Vi ricordo che la lettera ai Colossesi è stata scritta, almeno umanamente parlando, dall'Apostolo Paolo. È stata scritta per mettere in guardia i credenti che stavano a Colosse. Paolo voleva proteggere questi credenti da un modo di pensare che era sbagliato, era anche pericoloso. E anche se all'interno di questa lettera Paolo non spiega in modo dettagliato l'eresia che stava girando, che stava circolando, da quello che dice all'interno della lettera. Sappiamo che c'era quest'idea, circolava quest'idea, che Cristo non fosse sufficiente. Che i credenti avessero bisogno di qualcosa in più. E di conseguenza leggiamo versetti come questo, Colossesi 2,6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore? Così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata e abbondando nel ringraziamento. Quindi come siete partiti, continuate così. Non cercate cose ulteriori, cose più profonde, cose più piene. Questa è una delle parole chiave di questa lettera, la pienezza. Cristo non è soltanto il punto di partenza. Cristo è tutto. Infatti Paolo continua nel capitolo 2 e dice Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione dei uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza. Della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui. Ecco questa parola chiave. Pienezza, pienamente. Avete tutto in Lui. Lui che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Lui è il capo sopra ogni cosa. Di nuovo, non è quel piccolino, poverino Gesù, guardalo, così piccolo, così debole, così indifeso. Indifeso. No, Lui è sopra ogni cosa. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo, della carne. E va avanti. Questo mostra l'importanza di una sana, di una robusta conoscenza di Cristo. Se il nostro Cristo è piccolo, se il nostro Cristo, se il tuo Cristo è insufficiente, se il tuo Cristo è inadeguato, cercherai, cercherò, cercheremo altrove per avere ciò che si ha solamente in Lui. daremo la nostra ammirazione, la nostra venerazione, la nostra devozione, la nostra adorazione ad altri e non a Cristo. Saremo così colpevoli di idolatria. Cercheremo l'approvazione di altri e non quella di Cristo. Cercheremo di piacere agli uomini e non a Lui. Infatti, questa lettera non è lunghissima, ma ci sono vari momenti che innalzano Cristo. Il primo capitolo, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primo genito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create. Tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Di nuovo, questo sottolinea l'importanza di avere una comprensione robusta di Cristo. E se la tua idea, la tua comprensione di Cristo non è un Cristo che ha creato tutte le cose e per le quali sono state create tutte le cose e grazie a Lui esistono ancora, tu stesso esisti in questo momento grazie a Cristo, se questo non è la tua idea di Cristo, la tua idea di Cristo non è biblica. E dovresti tornare a rivedere. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. È il capo del corpo, cioè della Chiesa. Lui è il nostro capo. Tu rispondi a Cristo, io rispondo a Cristo. Al Padre, questo è il versetto 19, piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Questo è Cristo. Così arriviamo al capitolo 3. Questi erano alcuni brani dal secondo e poi dal primo capitolo. Arriviamo al capitolo 3 dove si trova il nostro brano di oggi. Il capitolo 3 inizia dicendo se dunque siete stati risuscitati con Cristo, e di nuovo tengo a precisare, Paolo non sta dicendo che ci siano due categorie di credenti, quelli che sono stati risuscitati con Cristo e quelli che non sono stati risuscitati con Cristo. Quello che sta dicendo è visto che siete stati risuscitati con Cristo, alla luce di questo fatto, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E di nuovo il fatto che Cristo sia lì, per noi ci dice che il sacrificio che Lui ha fatto sulla croce è stato accettato da Dio Padre. Siamo al sicuro. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Versetto 4. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Questi i primi quattro versetti del capitolo 3. Poi arriva un imperativo, alcune versioni dicono di far morire, di mettere a morte, stiamo parlando di roba seria, ma io non sapevo che nella Bibbia ci dicesse di uccidere. E sì, ci dice di uccidere. Sei curioso di sapere cosa dobbiamo, non è un chi, ma cosa dobbiamo uccidere. Altre versioni parlano di considerare come morte, sono due mori di tradurre questa frase, comunque fate, versetto 5, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Noi ci dovremmo affermare qui, se tu stamattina sei in Cristo, questa frase deve catturare un po' la tua attenzione e dire, ok, c'era un prima, prima vivevo in un certo modo, prima ero in un certo modo, ora le cose sono diverse. Quindi devo o mettere a morte, o almeno considerare come morte ciò che in me è terreno, quindi la fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia che è idolatria. E per queste cose che l'ira di Dio viene sui uomini, sui uomini ribelli, così camminaste o così camminavi un tempo, anche tu, anche io. Siamo nati così, la Bibbia è chiara su questo fatto, ognuno di noi nasce in questa condizione, ognuno di noi cammina naturalmente così, quando vivevamo in esse. Poi arriva l'idea di spogliare o deporre, togliere e poi rivestire. Versetto 8 Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malinità, calunnia e non vi escono di bocca parole oscene. Quindi deporre, depongo, mi tolgo, mi spoglio, lascio. Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. ecco la nostra nuova identità. Eravamo il vecchio uomo, eravamo nel vecchio uomo, ora siamo nel nuovo, siamo in Cristo e la chiamata del credente è di rivestirsi della sua nuova identità. Non sei più quello, quindi vivi di conseguenza, vivi in modo coerente alla tua nuova natura. Non dire più bugie, non appartieni a questa nuova identità. Di la verità, di nuovo, voglio che questo sia super super chiaro. Nella vita cristiana, il credente non è, e qui se lo so, infatti l'ho scritto maiuscolo, non è, tu non sei, io non sono chiamato a produrre qualcosa di nostro. Ok? Dio non esige dai suoi figli un'ubbidienza che noi dobbiamo in qualche modo produrre con le nostre forze, con le nostre idee, con le nostre capacità. No, noi siamo chiamati a vivere in pratica ciò che siamo già in realtà o per natura. Siamo chiamati a vivere coerenti con la nostra con la nostra nuova natura ed ecco un buonissimo esempio non dire più bugie non mentire più non mentite più agli altri non fa parte della tua nuova natura. Così in questo modo possiamo dire che la mia ubbidienza è la tua se sei figlio di Dio la mia ubbidienza continua continua nel senso progressiva la mia ubbidienza crescente serve come testimonianza a me e veramente a tutti che c'è infatti nuova vita se c'è una nuova natura si vedrà come dice qualcuno se c'è veramente questa nuova natura non potresti nasconderla anche se volessi ci sarà evidenza l'ubidienza non sarà perfetta ognuno di noi è un essere umano ognuno di noi ha un lunedì mattina ogni settimana quindi la nostra ubbidienza non è perfetta oppure domenica sera non so per te nella nostra famiglia e sia domenica sera anche lunedì mattina sono momenti di prova l'ubidienza non sarà perfetta ma ci sarà sarà progressiva sarà crescente ma ci sarà così è proprio per questo che arrivando al nostro brano versetto 12 è per questo motivo che ho voluto intitolarlo tre evidenze della nostra nuova vita vedremo tanti o diversi imperativi ma ho voluto chiamarli e credo vada benissimo per il testo ho voluto chiamarle tre evidenze della nostra nuova vita perché il vero figlio di Dio il figlio di Dio sano crescente farà queste cose quindi credo ci sia del tutto chiamarle evidenze della nostra nuova vita la prima è questo il perdono di Cristo scaturisce in noi potete scriverlo sul vostro foglio se l'avete preso il perdono di Cristo scaturisce in noi e vediamo una prima lista un primo elenco di cose versetto 12 vestitevi quindi di nuovo questa immagine spogliare rivestirsi vestitevi dunque come eletti di Dio santi e amati di sentimenti di misericordia di benevolenza di umiltà di mansuettudine di pazienza sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione di tutta questa lista sono arrivato a riassumerla con la parola perdono un motivo è proprio quello che viene ripetuta due o tre volte due volte moro esplicito la terza volta moro implicito quindi il perdono di Cristo scaturisce in noi ma vediamo questa lista sentimenti letteralmente la parola parla delle parti interiori queste parti interiori è il moro per parlare del cuore della persona interiore ecco io chi sono oltre a questo corpo cioè l'uomo interiore la donna interiore interiore parla la nuova di odati traduce viscere sentimenti rivestirsi di sentimenti spesso viene tradotto cuore questa parola comunque è il luogo dei nostri sentimenti ok rivestirsi di sentimenti di questi sentimenti ecco una prima lista di controllo questa mattina per il nostro referto ok stiamo tutti guardando il suo il proprio referto misericordia la parola che può essere tradotta anche compassione mostrare preoccupazione per la sfortuna altrui quindi rivestirsi di sentimenti di misericordia benevolenza un agire non duro soft amorevole verso gli altri umiltà questa settimana studiando sui proverbi io ho letto questa definizione questa spiegazione dell'umiltà l'umiltà non è cercare di eliminare i pensieri diciamo troppo alti di me stesso come primo passo ma il primo passo è quello di vedere Dio come lui è realmente per poi vedere me stesso come io sono realmente alla luce di Dio non alla luce del fratello all'interno della chiesa che di cui sono certo di essere superiore quindi se io faccio il paragone con il fratello si dice tizio no? tizio caio e sempronio ringraziamo il signore che non abbiamo né un tizio un caio un sempronio però se io mi paragono con il fratello del quale io mi credo di essere superiore esco sempre vincitore io no? diventa una lotta essere umile se invece mi paragono con il creatore dell'universo lui creatore io creatura lui autosufficiente ti fermi mai a riflettere sul fatto che Dio non ha avuto un inizio esiste da sempre ed è autosufficiente io invece se Dio in questo momento dovesse decidere di portarmi a casa io smetto di esistere io sono completamente dipendente su Lui quindi l'umiltà è vedere se stessi alla luce di chi è Dio quindi sentimenti di misericordia benevolenza umiltà mansuetudine un dizionario biblico definisce questa parola di mansuetudine come la qualità del non essere troppo impressionato da un senso della propria importanza adesso arrivo io vedrai così preso dalla mia importanza nella nostra nuova identità siamo chiamati a rivestirci di sentimenti di mansuetudine di non essere così presi da quanto noi siamo grandi essere invece presi da quanto sia grande il nostro Dio siamo qui per adorare noi stessi pazienza l'idea di qualcuno che non si accende troppo velocemente o troppo facilmente credo letteralmente l'idea di una miccia lunga ci vuole per arrivare al momento dell'accensione quindi siamo chiamati a rivestirci di sentimenti misericordia benevolenza umiltà mansuetudine pazienza poi arrivano questi due participi sopportandovi so che almeno nella nuova riveduta sono proprio sopportatevi e perdonatevi in realtà sono due participi che vanno proprio mano nella mano con questi sentimenti sopportazione perdono e così possiamo dire un credente vero un credente sano e crescente si rivestirà di sentimenti di misericordia di benevolenza di umiltà di mansuetudine di pazienza e sarà una persona che sopporta gli altri e sarà una persona che perdona gli altri il vero credente il credente sano e crescente non è uno che perdona in piccole quantità non perdona in modo tirchio ma proprio come dice il testo come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi come il Signore il Signore vi ha perdonati così fate anche voi allo stesso modo sta dicendo o nella stessa misura quindi tu sei stato perdonato sei stato perdonato di poco o di tanto così deve essere anche il tuo perdono il modo in cui tu perdoni gli altri e so benissimo che stiamo vedendo un brano che contiene degli imperativi ma sono convinto ed è per questo che ho intitolato la predica così credenti veri credenti sani e crescenti faranno proprio così cioè il nostro perdono sarà per noi evidenza della nostra nuova vita potremmo dire persone perdonate perdonano e potremmo aggiungere persone perdonate di tanto perdonano tanto poi versetto 14 al di sopra di tutte queste cose di nuovo c'è l'idea vestitevi non c'è proprio il modo esplicito ma vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e di nuovo so che il perdono non è l'unico elemento in questi versetti ma viene ripetuto quindi ho scelto di usarlo per rappresentare tutta la lista il perdono di Cristo scaturisce in noi questa è un'evidenza io so quando parliamo di perdono ci sono tante domande difficili per quanto riguarda il perdono e voglio consigliare nuovamente il libro di John MacArthur La libertà e la potenza del perdono nel libro lui riporta una descrizione del perdono che è una triplice promessa quando noi perdoniamo quello che noi stiamo dicendo è che io prometto di non ricordarmi più del tuo peccato prometto di non parlarne con altri né con te o né con altri o né nella mia mente ecco la la promessa triplice non ne parlerò con te con altri o anche con me stesso il peccato è seppolto so che poi arriva la domanda ma perdonare significa dimenticare cosa cosa facciamo quando ci torna in mente questo fatto beh quando ti torna in mente pensi di questo fatto alla luce del fatto che è stato perdonato magari ci un giorno ci riderai anche sopra però quando torna in mente quella cosa non porti di nuovo in tribunale mentale quella persona non punti nuovamente il dito perché l'hai perdonato e anche se stamattina non hai tutte le risposte alle tue domande se fai fatica a perdonare io ti incoraggio fai fai un passo indietro guarda tutta la lista ti darà un'idea di dove di dove ti trovi ti darà un'idea del tuo riferto ti stai per esempio rivestendo di sentimenti di misericordia ti stai rivestendo di sentimenti di benevolenza di umiltà di mansuetudine di pazienza di amore quel legame perfetto quell'amore che si sacrifica per l'altro e di nuovo la nostra ubbidienza non sarà perfetta in questa vita ma ci sarà sarà progressiva sarà crescente risponderemo a brani così con un intento di ubbidire con un voler ubbidire anche questo è frutto dell'opera di Dio è lui che crea il volere e il fare nella vita dei suoi figli se davanti a un brano così non provi niente quello dovrebbe essere un segno preoccupante dopo questa lista questa prima parte troviamo un altro imperativo e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti quindi la prima evidenza era il perdono di Cristo che scattorisce il perdono di Cristo scattorisce in noi la seconda è la pace di Cristo regna in noi e questa parola regnare è l'idea di arbitrare di agire come un giudice quindi potremmo dire che la pace di Cristo è la pace di Cristo che valuta gli atteggiamenti del nostro cuore quando regna lui è lì che funziona come arbitro funziona come giudice sta lì a valutare gli atteggiamenti del nostro cuore gli atteggiamenti del nostro cuore che risultano in parole che escono dalla nostra bocca Gesù stesso disse che quello che noi diciamo viene dalla nostra bocca ed è per questo che non sono molto pronto ad accettare frasi come ah scusa non ho voluto io direi umilmente sì tu hai voluto magari in altri momenti sei più cauto di quello che lasci uscire dalla tua bocca ma nelle circostanze giuste o forse sbagliate uscirà quello che pensiamo veramente nel nostro cuore poi diremo ah scusa non volevo sì volevi non so se vi è mai capitato di parlare con qualcuno e in quel momento ti rendi conto che qualcun altro sta ascoltando quindi alla luce di quel fatto tu cambi il modo in cui stai parlando con quella persona se questo è troppo troppo vago magari alcuni di noi ancora vivono con i loro fratelli in casa ma se cerchi di pensare a quell'epoca quando anche tu se avevi fratelli questa dinamica fra fratelli quando i genitori sono presenti c'è un certo modo in cui noi ci rivolgiamo verso i nostri fratelli quando i genitori non ci sono per fare da arbitro o fare da giudice ci lasciamo agire in mori diversi magari i toni un po' più pesanti parole meno carine immagina Cristo immagina Cristo il principe della pace come viene descritto in Isaia 9 immagina Cristo presente seduto fisicamente per ogni tua conversazione tu quel fratello quella sorella è Cristo immagina Cristo presente ogni volta che tu scrivi un messaggio su whatsapp immagina Cristo che è lì seduto e vede sa perfettamente quello che stai pensando nella tua mente quando ti viene in mente quella persona all'interno della chiesa o quella persona all'interno della famiglia o al lavoro o a scuola qualcuno ha detto nel passato ci può essere utile immaginare Cristo in questo modo ma non dobbiamo immaginarlo perché è così lui sa ogni parola che noi meritiamo ogni parola che noi diciamo ogni parola che noi scriviamo lui le sa le sa credo ci possa essere utile riflettere su questo ma non dobbiamo immaginarlo perché è così è così lui è presente lui assiste le cose che diciamo ci possiamo chiedere contribuiscono a mantenere la pace che Cristo ha acquistato per il suo popolo con le mie parole sto lavorando verso il mantenere la pace che Cristo ha acquistato con la sua croce con la sua morte poi qui aggiunge di essere riconoscenti può sembrare curioso ma quando pensiamo al corpo al corpo di Cristo quanto siamo tentati di non essere riconoscenti per gli altri componenti del corpo penso abbastanza succede abbastanza questa tentazione di non essere grati non essere riconoscenti a Dio Cristo oggi ti voglio ringraziare per aver salvato questa sorella questo fratello perché tu lo stai usando grandemente nella chiesa lo stai usando anche per la mia crescita è vero che a volte sono frustrato ma questo non è altro che il mio cuore che sta venendo in superficie Cristo grazie per questa questa sorella non è la tendenza carnale parlare e pensare in questo modo quindi pensa le tue conversazioni di questa settimana pensa agli atteggiamenti del tuo cuore cosa direbbe il principe della pace delle parole che hai usato come valuterebbe le cose che hai pensato rispetto ad altri membri della nostra chiesa erano cose vere erano cose onorevoli erano cose giuste erano cose pure amabili di buona fama c'era qualche virtù qualche lore nel modo in cui abbiamo pensato degli altri membri questa settimana sono buone domande da porsi in questo nostro referto di questa mattina allora abbiamo visto le prime due evidenze della nostra nuova vita il perdono di Cristo scaturisce in noi numero due la pace di Cristo regna in noi e la terza e ultima che vediamo in questo testo almeno come ho voluto riassumerle la parola di Cristo abbonda in noi la parola di Cristo abbonda in noi e a volte quando parliamo della parola parliamo delle discipline spirituali a volte la domanda che viene fatta è quanto devo leggere ogni giorno qui non si fanno queste domande qui dice che l'obiettivo è che la parola di Cristo abiti in noi in modo abbondante abbondantemente così abbondante che ci stiamo ammaestrando ci stiamo esortando gli uni gli altri con ogni sapienza così abbondante che stiamo cantando di cuore a Dio quindi non solo con le nostre parole ma con i nostri cuori perché tutta la settimana la parola sua è stata in me in modo abbondante e arrivo qui in chiesa proprio pronto a cantare delle cose sulle quali da una settimana sto meditando così abbondante che ogni cosa che facciamo e diciamo lo facciamo e diciamo nel nome del nostro Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui e non l'ho letto il versetto ma versetto 16 la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi inni e cantici spirituali qualunque cosa facciate in parole o in opere fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui e la nostra domanda la domanda alla quale dobbiamo rispondere stamattina la parola di Dio la parola di Cristo è così abbondante in me che stanno succedendo queste cose è normale nella mia vita pensa alle tue conversazioni di questa settimana quanto è stata presente la parola di Cristo nelle tue conversazioni specialmente se ti ritieni un seguace di Cristo la sua parola si trovava nelle tue conversazioni era così abbondante che fuoriesce quando parli con altri quanto hai cantato di cuore a Dio questa settimana l'hai fatto stamattina quanto hai agito e parlato nel nome del nostro Signore Gesù quanto hai rappresentato Lui in conclusione quello che ti devo chiedere cosa dice il tuo referto questa mattina e se quando ho chiesto quest'ultima domanda se il tuo pensiero era tipo ma sono contento che quell'altro fratello sia venuto questa mattina perché lui aveva proprio bisogno di ascoltare questa predica quella sorella sono così contenta che lei è qui e spero che lei aspetta ah sì sta prendendo appunti benissimo lei ha proprio bisogno se questo è il tuo nostro pensiero posso incoraggiarti a guardare il tuo di referto e non interessarti principalmente negli altri Gesù ci ricorda le sue parole nel Vangelo di Matteo chiede perché guardi la paiuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo come potrai tu dire a tuo fratello lascia che io tolga dall'occhio la paiuzza ti tolga dall'occhio la paiuzza mentre la trave è nell'occhio tuo ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave allora ci vedrai bene per trarre la paiuzza dall'occhio di tuo fratello quindi ti voglio chiedere mentre guardi il tuo referto vedi nel tuo referto il perdono di Cristo che scaturisce in te se quando ho detto stamattina la parola perdono quando abbiamo visto nella parola di Dio questa parola se una persona è venuta o il nome la faccia di una persona è venuta subito in mente se tu tendi a vedere questa persona come il problema ti posso incoraggiare a vedere la tua mancanza di perdono come un'indicazione della tua salute spirituale e non della sua e con questo non sto dicendo che l'altra persona non abbia torto non sto dicendo questo quello che ti sto invitando a fare è scrutare il tuo cuore non pensare io sarei a posto se non fosse per quest'altra persona vedi il perdono di Cristo che scatolisce in te vedi la pace di Cristo che regni che regna in te vedi la parola di Cristo che abbonda in te hai cantato di cuore a Cristo questa mattina abbiamo cantato la vera adorazione cos'è la vera adorazione se non l'intento di ubbidire Cristo in ogni cosa se non c'è quello possiamo dire che è vera adorazione non credo quindi ti voglio chiedere guardando il tuo referto dove ci sono degli asterischi nel tuo referto questa mattina la buona notizia per noi è che Dio offre grazia offre la grazia a chi ha degli asterischi sul proprio referto e che si umilia per chiedere aiuto non offre grazie ai superbi lui resiste ai superbi ma da grazia offre grazie ai umili e la mia preghiera per te stamattina è che una volta che hai aperto il referto che non lo richiuderai dicendo tutto a posto qui va tutto bene prego che non continuerai a vivere nell'illusione che le cose siano diversamente Dio ti offre grazia Dio ti offre la grazia di essere perdonato e la grazia di essere cambiato e di cambiare quindi ti incoraggio umiliati e ricevi questa grazia che Dio offre oggi ai umili preghiamo signore grazie per questa lista di controllo che c'è nella tua parola non abbiamo dovuto inventarci niente signore aiutaci a leggere la tua parola in questo modo aiutaci a leggere questi imperativi come cose che sono possibili grazie al tuo intervento alla tua opera e noi al fatto che abbiamo una nuova natura non siamo quelli che eravamo prima e aiutaci a vedere tutto questo spesso questi imperativi non come ostacoli alla nostra gioia o alla nostra libertà ma proprio come la via che porta alla nostra gioia e alla nostra libertà e ogni cosa che tu hai messo nella tua parola è per la tua gloria ma per il nostro bene signore aiutaci a vederle così aiutaci a poterci umiliare davanti a te sono sicuro che ognuno di noi davanti a questo brano ha visto ha pensato di situazioni o di aspetti della propria vita che richiedono attenzione richiedono il nostro morire a noi stessi ecco perché è così difficile perdonare anche perché fa parte del morire a noi stessi ti prego di aiutarci in questo sono sono certo che tu aiuterai aiuterai chi te lo chiede nel nome di Gesù Amen